Ciao a tutti amici del mio canale, bentornati a questo nuovo video. Sono qui oggi con Beba, Ante e Anna e mia mamma. Ciao! Che sorride! Stiamo andando a Tortona, sono uscita da scuola e è stata una giornata traumatica come tutte e andiamo, oggi facciamo tutte la 100. Andrea, il mio istruttore mi fa, fai la 100 così fai pace con Domino, quindi speriamo di fare pace e che poi vada tutto bene. E niente, ci vediamo là. Ragazzi c'è un cavallo che sta muggendo, un maiale, non lo so, poverino. Comunque noi stiamo andando in bagno perché è questione di vita o di morte e devo fare la più lunga della mia vita. Grazie a tutti. 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 Brava Pernie! Pernie, com'è andata? Niente polpette di domino. Niente polpette di domino. Ma come si fa il video, scusate? C'era tua madre che era... No, Ante, aiutami. Vedete? Ma non hai sentito che urlo ha tirato? Tutti la ha tirato. Tutti la ha tirato? Sei terza! troppo felice letteralmente non ho fatto mezza girata mezza fatto tipo tutto stralargo però ovviamente c'era la otti e quindi boh in teoria sono in premiazione tipo terza senza aver fatto mezza girata e tipo fatto due secondi dopo il primo che immagino le avrà fatte le girate e quindi basta adesso andiamo a vedere se sono in premiation un applauso a questi concorrenti cosa vuoi dire ai suoi fan basta che non l'ho fatto mezzo girato non faccio niente non facevo una cento tipo no beh ieri però se no luglio stai investendo qualcuno e basta sono arrivata quarta anna dici dici sono arrivata a quarta come il mio cavallo come i cinesi come i cinesi come i cinesi per notte serve da comma arti anch'io sono arrivata a quarta anche io sono arrivata qui che ho sotto quei 10 cm. Izzivo ventesima però oddio ma Nein no 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 è bellissimo guarda qua c'è anche la faccia di domino che vuole un cito guarda è viola è gigantico ma guarda perdi io vado ce l'ho investo ma va bene non farti investire Sia e Marie È una E? Salutate il vlog di Perni Ciao Oh, brava Ciao vlog di Perni Adesso Perni Sei iscritta tua Saluta È il vlog di Perni Dimentico amoso Lui è il papà di Ante Sai che ho un canale YouTube? Questo è YouTube E questo è Domino Anche qua Aio Lui è quello che mi tirava le manate in te Aspettila Grazie videista Domino Vieni dalla nonna Vieni Dai questa te la sei meritata oggi Dagliela se no torna giù Dai Ma l'hai fatta cadere No, non l'ha mangiata No, è caduta È lì per terra Sei un fail Domino È per terra, testina Gliela devi mollare dopo Dov'è Domino? No, la mano, la mano Sembrava che l'avessi Sei un fail Ho beso lo mio Ma voi non potete capire quanto sono felice Domani facciamo la 10 Ti sei mangiato bravo? Ho mangiato la carota che era caduta per terra Cicciolino Sei stato bravo Guarda che orecchie Che c'hai? Che orecchie Che orecchie Sei stato bravissimo Sei stato bravissimo Sì Sei bellissimo Ti sto dando fastidio Oh, non metti a fuoco Cos'era? Guarda quanto cacca Sei un cicciolone Domino ci vediamo domani Vado, va bene? Ciao bestia Ciao Ante Ciao Dai racconta come sei andata Allora A parte il fatto che sia stato Un'ora e passa in campo prova Perché Mancava l'ultimo della 100 Che non arrivava Cioè non arrivava l'istruttore E quindi sono stata ad aspettare un sacco Poi vabbè Abbiamo iniziato la 110 Tutti Poi una poverina è caduta Ammazzata 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 E ambulanza proprio in campo Vabbè poverina mi spiace Sì E altri 20 minuti E poi ha fatto la sua gara Letteramente andava via 1 all'ora Sì Cavolo Dopo un'ora e mezza Di campo prova Ci vedo che la cavale è morta E quindi Vabbè Però Mi ha scattato il secondo elemento della gabbia Poi l'ho rifatto È stato benissimo sono più dettagli fantastico ora ci andiamo a firmare e poi io dormo da me oh my god buongiorno a tutti è domenica mattina io sto ancora dormendo cioè mattina sono tipo le 2.30 mattina no stiamo andando in realtà adesso siamo fermi e poi arriviamo e e niente ci sarà facciamo tutte 1 a 10 quindi è la seconda volta si venerdì faccio ma è la prima volta che siamo in campo prova insieme e lei fa oddio è vero e quindi saremo di nuovo in campo prova insieme e saremo anche in campo gara insieme perché lei e non sono decima quindi che cosa carina si e poi andiamo a fare la passeggia oh e quindi speriamo che vada bene mi ha fatto insieme speriamo veramente e ci vediamo dopo abbiamo fatto la ricognizione e mi ha fatto la treccia e adesso guardiamo tipo i primi 10 mi piace molto questo percorso è molto felice di questo percorso io non so quante girate farò è tutto girato non penso tutte dopo ogni salto facciamo girare è vero e niente guardiamo tipo i primi 10 e poi andiamo a preparare le bestie non ci vediamo non ci vediamo non ci vediamo 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 ciao